Ciao a tutti ragazzi e bentrovati sulla versione rimasterizzata per PS4 di Dark Souls 1 e Demon's Souls anche, perché no? Allora, come avevo promesso, ho farmato un pochettino quei nemici nell'area fino al conseguimento delle 20.000 anime e come vedete, da quello che sto impugnando, sono riusciti ad ottenere almeno quest'arma, non la falce purtroppo, si chiama Lama del Corvo, è un pugnale, di particolare ha che è lungo, quindi è un buon pugnale in effetti, però scala pessimamente, è davvero molto basso, e di nuovo ha soprattutto la skill particolare, che è il punto cieco, che è questa qui. E' così, immagino che possa trapassare gli scudi, visto che è un colpo completamente laterale, oppure ho capito male io, però punto cieco mi fa pensare a quello. Comunque sia, poi magari li proverò prima o poi ad ottenere quella falce, per ora questo pugnale, per quanto mi interessi, deve farsi da parte, perché non posso potenziare nient'altro, stiamo ancora andando in giro con la mazza spinata, che mi gusta, e l'Arabarda che mi piacerebbe cambiare, poi vediamo che altro, niente di particolare. Tornando qui, ho visto questa signorina, che non riconosco, quindi parliamo con lei. Sirris? Da dove arriva questa? Ah, quindi non le piace molto la mia presenza qui, io devo farti complimenti per la postura, davvero molto elegante, però vabbè. Ok, quindi lei non le sto simpatico, a me invece lei sta simpatica per ovvi motivi, però non possiamo farci niente. Io volevo anche fare due checchiali con te, giusto per sapere, no, non c'è nessuna opzione per il libro in Braille, ho pensato a lei solamente perché porta una corona davanti agli occhi, quindi magari non ci vede, non lo so. Stavo cercando di immaginarmi qualcosa, e poi non ho visto in giro se da qualche parte trovo la sorella brutta di Astraea, ammesso che sia qui dentro. Intanto volevo parlare anche con te, giusto per sapere se posso ancora tingere al vero potere. Ah, 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 ah. Che cos'è quella vacuità? Spiegami, spiegami. Ammesso che sia una vera spiegazione. L'avanzamento a livello di maledizione di questo personaggio. Mmm, se esagero divento vacuo, però esiste quella statua di Velk che dovrebbe rimuoverlo a un costo di anime. Quindi c'è da vedere come ho causato questa vacuità e quanto diventa troppo. Potrebbe avere a che fare con questo NPC, eh? Così, a caso, perché mi sembra strano che mi fa fare un livello così senza pagare nulla e senza nessuna conseguenza. Però tecnicamente lo posso fare, non spesso, ma posso farlo. Non so perché adesso sì e prima no, però facciamocelo andare bene. Diciamo che va bene così. Detto questo, un punto. Dove lo vogliamo mettere? Mmm. E questo non mi farebbe mai male, però... Così continuiamo a essere bilanciati. E anche così è buono. Vabbè, dai. Vada. Sarebbe bello vedere se adesso, tipo, è aumentata la mia vacuità. Però non penso che me lo faccia fare. Nel menu, per caso, vacuità è sempre 5. Quindi no, non è così che si alza. Mmm. È da capire questa cosa. Giusto per sicurezza facciamo un... Un controllo qui intorno. Non c'è più il tizio che stava qui sotto. Quella... Quel tipo che voleva invadere la gente. Meglio così. Andrà ritrovato. Io con te ancora non posso avere niente a che fare. Per quanto sono tentatissimo dall'idea di farmi quell'anello. Però il martello grande anche mi attira. E allora... Stanno andando alla parte sbagliata, vero? Già. Devo prendere... La chiave. Che vende lei? Ah, a proposito, sotto il primo episodio che ho pubblicato ieri, ho ricevuto un suggerimento che non è troppo spoileroso, però è utile. Mi hanno detto che un... una parete illusoria è presente all'interno di questo posto e che devo cercarla sopra. Adesso penso che con la chiave saremmo in grado di... Ah, vedi, c'è anche un oggettino lì, non avevo alzato lo sguardo? Ah, perché c'era nebbia, maledizione? Tanto non è di qua che devo andare. Io sta cosa non la capisco, sono offline in questo momento. E ho la nebbia. Senza motivo. E non posso passare. Per favore. Allora. Esattamente, la chiave della torre. Speriamo ne sia valsa la pena di utilizzare queste 20.000 anime. La vista non è male, ma non è per certo per questo che ho pagato. Per quanto, non è davvero niente male. E adesso di qua. Ah, non penso ci saranno nemici di nessun tipo, però. Un po' di... Attenzione, non guasta mai. Ma qui posso tipo fare parkour spumeggiante, buttarmi di sotto. Aspetta. Qual è un nido di corvi? Ah, vabbè. Se lo fosse, sapremmo già che cosa farci con un nido di corvi. Una delle cose che possono tranquillamente riciclare senza farmi sorcere troppo il naso. Alla fine quella è una cosa bella. Si sale. Ero sicuro che stessimo per scendere. Ok. Non lo rimando giù l'ascensore, tanto c'è una leva. Se mi dovesse servire. E chissà, magari scopriamo anche segreti non rimandando giù l'ascensore. Un oggetto. Ah, questa sarà la campana che ci avrebbe risvegliato. Posso prenderlo senza sentirmi male? Anima di guardiana del fuoco. Hm. Che interessante esista, visto che per potenziare l'estus non si usa questo oggetto. Ho sbagliato ancora una volta. Sarà un oggetto chiave? Eccola qui. Anima di una guardiana tornata dall'abisso. Ok, quindi non mi dice parecchio. A meno che non vuole che la uso sulla guardiana di questo falò. Ah, vedi, lì c'era l'arena del giudice. È un bel posto questo. Sono tentato di tirare fuori l'arco e colpire la campana. Giusto per vedere che succede. Facciamolo. Ma non penso che succederà niente. Sono giusto i miei desideri sciocchi. Vai. Infatti l'ho trapassata. Ma valeva la pena di provare. Chissà se scoprivo il segreto della vita. Quindi tutto questo l'ho fatto per un'anima di guardiana? Ho pagato 20.000 anime per questo oggetto? Non può essere tutto qui, vero? Quanto potrà essere utile quest'anima di guardiana? Ma soprattutto io sto cercando di capire se mi tuffo scopro segreti? Crepo? Scopriamolo. Tanto ho tutti i curativi. Eh, che segreto bellissimo. Sono il primo al mondo sicuramente a vedere quella porta. Eh no, di qua non penso di potermi buttare. Quindi non è servito a granché. No, direi decisamente di no. E tra l'altro mi sono trovato bloccato perché giustamente c'era la scala che portava su. Quello è il primissimo falò. Almeno mi sono goduto questo panorama. Però adesso c'è da vedere se quel nido di corvi ha messo che sia di corvi ovviamente serve a qualcosa o no. Qui l'ascensore non è che ci sono segreti c'è da buttarsi da qualche parte. Ecco. Quello cos'è? Per esempio. Ammesso che mi faccia vedere. Eh, non mi posso spostare. Maledizione. Come dovrei raggiungere quella cosa? È ovviamente un oggetto però come lo prendo? Lì ce n'è un altro. Queste sono tombe che escono fuori quindi posso raggiungerlo tipo così. Ok. Ha senso. Però l'altro no. C'era qualcos'altro che mi sono perso? Può essere. Allora da qui ce n'è un'altra. Questa cosa è pericolosissima considerato il danno da caduta di questo gioco. Che però mi ha salvato in questo caso. E abbiamo l'anello dell'estus che nome curioso mi fa curare di più? Sì. Va bene. Posso farne a meno. È tipo un potenziamento dell'estus a forma di oggetto. E questa è la porta ok davanti alla quale c'era il tizio con la katana quello che è morto buttandosi di sotto nel primo episodio. Evviva! Che poi in realtà è fortissimo e non attaccatelo se volete vivere. Però resta quello che voglio prendere e soprattutto non penso che sia tutto qui. Anche perché vi ricordo che avevo visto la scorsa volta che c'era una scaletta da buttare giù sui tetti e robe da fare che noi non abbiamo fatto. Voi state fermi. Bravissimi. Vi voglio bene quando fate così. non bisogna sempre combattere. Io dove sono però era da qui sotto che si accedeva e un po' che non tornavo in quest'area a parte ovviamente il santuario vero e proprio. E a questo punto torno su vedo se trovo qualcosa di interessante. In particolare un modo di azionare questo è prendere almeno quell'oggetto che si vede lì che non penso che ma può anche darsi che tipo sfruttando l'albero come in Bloodborne si possa fare un salto ammesso che sia lungo abbastanza e arrivare sul tetto ma sicuramente se si può non è la maniera intesa quindi non ha neanche forse sì forse sì però non ha senso che ci perdo tempo in questo momento tanto vale andare su perché comunque devo prendere almeno un altro oggetto quello è sicuro ah vedi qui c'è un modo di scendere la caduta non è diretta quindi si può tranquillamente arrivare sul tetto lì ho visto una lucertola di cristallo quindi c'è anche di più di quanto pensassi e ora siamo qui sopra quindi posso attivare questa scala posso buttarmi di sotto e posso vedere questo aha esattamente indizi strani boom boom io giusto per fare una prova lascerei qui il ciarpame tanto ne ho più di uno tieni vediamo che succede no non boom boom non fiu fiu è difficile interpretare questo giro boom boom tieni eccola qua la bomba cos'è diventata sembrerebbe un materiale questo frammento grande di titanite non penso che si possa fare questa cosa all'infinito sarà come in Dark Souls 1 porti una volta un oggetto e lui te lo cambia in qualcos'altro altrimenti non ha senso che ti compri le bombe vieni qui e le scambi con frammenti di titanite a caso detto questo vediamo se anche questo ti piace non è nel posto giusto mi sa deve stare proprio dentro il nido scusatemi non volete uscire neanche di un centimetro no questo no e io rischio di giocarmi tutta la giornata solamente qui davanti a lasciare consumabili e cose per vedere se lui vuole averli o no fiu fiu boom 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 era abbastanza chiaro ah vedi anche questo gli piace incisione ah si ottengono così hello va bene eeeh un'ultima prova vediamo lasciamo questa una non è un problema no grazie preferisco che non l'hai raccolta avevo detto che quella era l'ultima prova stavo scherzando vediamo questo neanche va bene addio questa è una cosa che non mi dispiace se qualcuno mi dice una bella lista degli oggetti che si possono scambiare magari senza dirmi quali sono i più utili e cosa si ottiene in cambio quello posso anche scoprirlo da solo però sapere quali oggetti devo dare non mi dispiace non è uno spoiler che mi disturba anzi speravo di meglio da quell'oggetto intanto è qui ah vedi si può ah si prenderà quello che ho visto lì sopra e io in tutto questo non ho comunque cercato la parete illusoria perché sono troppo ah forse salve mio mio fiu fiu va bene non è che per curiosità fiu fiu potrebbe essere tipo una freccia dove sono le frecce le troveremo ecco qua lascia una freccia no va bene freccia normale scheggia di estus questo non mi fa male e poi qui sopra sembra esserci molto altro si si silenzio e di là boh niente c'è solamente questa roba va bene non credo che ci sia molto altro da vedere qui quindi con 20.000 anime ti paghi il corvo oppure aspetta giusto per sicurezza ammesso che sia possibile fare la cosa che stavo pensando io il salto contro l'albero e poi sul tetto non devi pagare per fare questa parte quindi per arrivare dal corvo da sotto e prendere la fiaschetta estus se si può fare il salto altrimenti no perché si arriva qui e poi vai di là resta che mi devo prendere quell'altro oggetto e io devo per forza andare da sopra eh si è l'unico modo ah mi sono scordato della lucertura di cristallo vabbè ancora una volta faremo un altro giro oggi passiamo tutto l'episodio qua dentro allora quella cosa io non vedo sporgenze da cui posso raggiungere quello e ho paura di morire semplicemente cercando di arrivare direttamente là però proviamo non ci perdo niente che cosa ma dai come ha fatto stavolta cominciamo da qua uccidiamo sta lucertola vediamo sembra chiuso no quindi dovrei essere in grado di beccarla subito op titanite scintillante quindi questa esiste ancora adesso leggiamo che cosa dovrebbe potenziare intanto da qui si arriva alle spalle della porta fantastico buttati da qui si usciva solamente non serve a nulla quella porta in realtà se non per tornare indietro appunto titanite scintillante rinforza un'arma intrisa di potere a più 4 e poi ho capito a che serve questa un'arma trasferita sarebbe un'arma di boss un'arma speciale questa da potenzia penso fino a più 4 così come questa potenzia fino a più 3 quindi forse le armi dei boss si possono fare fino a più 4 con queste poi ci vorrà un materiale speciale per fare il quinto grado una specie di lastra di titanite così come quelle scintillanti però le armi intrise di potere ancora non ne ho viste saranno armi speciali tipo in darsus 1 le armi dei cavalieri neri dove sto andando io oh questa è roba mia ma non è che non si può atterrare su quel punto oppure solamente io ci sono arrivato molto storto stavolta anziché solamente provare a correre per finire giù mi vedo costretto a saltare e se non funziona questo non funziona niente ecco qua sono scivolato così ah vedi i vestiti della guardiana del fuoco non male questi potrei addirittura indossarli ah guarda quanto danno però non è un problema siamo arrivati qui sotto va tutto bene eh valeva la pena spendere 20.000 anime facciamo di sì facciamo che sono soddisfatto da questa cosa diamo un'occhiata all'armatura della guardiana del fuoco dov'è eccola qui pesa un po' di più rispetto a ah ma è diversa è anche diversa rispetto a quella di un tempo interessante con tutto quello che è rimasto uguale l'armatura della guardiana no se io invece volessi vederne pezzo inferiore eccola qui questa pesa di meno e ci sta anche bene quindi questa posso anche tenerla un po' svolazzosa fa niente dai per ora possiamo stare così c'erano anche dei guanti per caso ah eccoli sì ovviamente pesano un po' di più i guanti sì sono sempre pezzi nuovi per un attimo mi hanno ricordato no non sono quelli i guanti del piromante di dark souls 1 però preferisco questo allora l'ingresso di qua non è vero niente vabbè adesso ci adesso cioè te le trasportiamo di nuovo nell'area che stavamo visitando eccoci qua allora io intanto mi scuso perché come al solito la mia inabilità di parlare comincia a diventare leggendaria eravamo rimasti qui con i nemici impalatori guarda come corrono posso tipo backstabbarlo per caso l'altro è troppo lento ci riprovo ah beh ancora una volta avevo il dubbio che non stesse funzionando invece sì sono piuttosto facili almeno presi in singolo abbiamo visto che se arrivano in gruppo diventano un po' più un problema lì c'è un oggetto in realtà oggetti ce ne saranno dappertutto perché qui noi ci siamo entrati giusto per dire ciao e poi ce ne siamo andati ah c'è un cane salve l'ho mancato di pochissimo ma mi ha salvato l'hyper armor non ho controllato se questa armatura ti dà equilibrio quella della guardiana che sembra che qualsiasi cosa praticamente adesso ti dia equilibrio ok ho controllato anche questa cosa che volevo sapere quest'acqua non è velenosa in nessun modo quindi ci si può entrare tranquillamente fantastico perché altrimenti tutta quest'area sarebbe stata orribile quello ma tipo era stato stordito dall'attacco senza esserne colpito quest'arma ha un'area un po' più grossa potrebbe essere lì in fondo vedo cose cose terrificanti sembrerebbe però è difficile vederlo e ho visto anche cose un po' più piccole qui penso che una buona idea sarebbe stare a lato della della pozza giusto per cominciare a farvi un'idea o da questo lato o dall'altro alla fine non cambia nulla salve tieni ah ok anche tu sei non troppo difficile da stordire però sei anche molto incazzato va bene ho capito ho capito non ti piace che io sia qui però ti assicuro che sto portando una bellezza in questo posto tiè che capisci tu di bellezza e non mi lascia nulla ma bene sappiamo che esiste questa cosa ovviamente prima di venire qui ho utilizzato il frammento di chiaschetta che ho ottenuto e loro possono droppare qualcosa adesso voi che cosa siete ma dai dei granchietti ma mi danneggiano sì che bella che è questa cosa quasi non lo voglio uccidere mi fa tenerezza è bellissimo 36 anime vale più di un non morto della prima area del gioco e non penso che sia minimamente pericoloso esattamente come quei non morti in realtà se va bene e testate ecco questa è la cosa più pericolosa che fanno scattare all'indietro per schivare gli attacchi aiuto e poi tornare subito alla carica mi ha preso non ero cioè pensavo che non si sarebbe girato così tanto curiamoci a ripetizione forse devo vedere aspetta la stamina sono completamente senza stamina la sto gestendo malissimo la stamina la vita il combattimento la mia esistenza praticamente tutto quanto puoi calmarti un momento grazie l'ho fatto proprio male sto pezzo mamma mia però però è parte del divertimento e dell'esplorazione mi piacerebbe se quel coso grande che ho visto in fondo in maniera indistinta fosse una sorta di granchio gigante si lo è evviva che bello ok quindi attacca solo con quella zampa tipo i granchi che appunto in alcuni punti lo trovo diversamente perché sputa ah vedi qui qui tipo c'è l'acqua profonda e rotolo male ho capito vieni da me allora no può attaccare anche con l'altro zampa non è come quei granchi che ne hanno una grossa e una piccola però se deve scegliere preferisce con la destra va bene non è un problema essere morti mi piace un sacco sto nemico è bellissimo questa sarà la nostra occasione per vedere questo posto dall'altro lato anziché andare a destra stavolta proseguiremo verso sinistra da qui ci siamo stati in realtà più o meno non so di preciso dove siamo stati ah lì in mezzo qui dovremmo esserci stati però no altrimenti avrei preso questo oggetto perché devo lasciare i nemici vivi quando so che sono aggrati perché sono un tenerone ecco perché e non mi piace fare del male alle persone il mio pacifismo mi farà del male frammento di chitanite che significa che siamo a 6 e possiamo potenziare un'altra volta quest'arma e mi converrebbe farlo visto che la stiamo usando come arma principale in questo momento perché mi sono un po' stufato dell'alabarda in fondo voglio provare cose nuove non voglio rigiocare a Dark Souls 1 anche se questa è la versione remastered ovviamente scudo dei draghi gemelli è uno scudo grande mi interessa poco e nulla anzi no nulla e basta lì c'è un altro oggetto andiamo verso i bordi abbiamo detto non ci perdiamo nulla prima esploriamo il lato e poi andiamo via via verso il centro perché con un'area così grande conviene fare così avere un ordine mentale di fare le cose altrimenti è facile perdersi come luogo non sai dove sei e anche perdersi oggetti in giro quindi non mi devo fare trascinare dalla voglia meglio seguire un ordine per esempio sappiamo che c'era una strada dove siamo stati prima e c'è una strada anche qui ma io perché cerco il backstab che non ha senso solo mica un nabbo tiè muori vediamo di qua non mi sembra di proseguire da qualche parte magari mi sbaglio dice un buco nel muro ah ecco avevo visto un oggetto lasciamolo là così so che non ci sono ancora stato cominciamo da questa parte poi al massimo entreremo anzi sicuramente entreremo qui dentro perché al massimo tu stai scavando sotto l'albero con il tuo paletto che bel passatempo sì probabilmente se l'arma fosse potenziata più 3 questi li ucciderei con un colpo non mi piace l'idea di buttarmi però lo faccio lo stesso mi ha droppato una scheggia di estus ah no ok è finito su un drop va tutto bene ora ho un altro motivo per ritornare al santuario devo potenziare l'estus e l'arma ah lui è uno di quelli più grossi mentre questo qui non riesco a capire cos'è lì intorno sono due sono due di loro vediamo se riesco a combattere con uno solo oppure addirittura ucciderlo quasi arrabbiati e muori la rabbia fa male e adesso tu non ti svegliare resta fermo è bello che gli abbiano messo queste cose sulla schiena in modo tale che siano completamente mimetizzati con l'ambiente volevo caricare un attacco lui non ha voluto chissà perché ma alla fine ho vinto io che poi non mi interessa andare per forza a riprendermi le anime perché in fondo erano poche preferisco ma vedi qui c'è un ponte esplorarmi l'aria come si deve se muoio nel percorso non è un problema questo è l'oggetto che avevo visto e ho detto di lasciare perdere quindi possiamo andare qui dentro guarda un po' c'è gente e noi con calma la uccidiamo quello è un mago ah no no fermati non avevo visto troppo tardi ma quantomeno ci siamo salvati quindi alla fine non è un problema quest'area sembrerebbe qui useremo il muro per farci da scudo si sono i nemici iniziali tutti quanti tranne quello che mi sta sparando magie che però non possono colpirmi affari tuoi provaci quanto ti pare posso? la tua strategia è molto peggiore della mia devo dirti questa cosa in amicizie quindi qui abbiamo un oggetto un bastone da eretico quindi è un catalizzatore per le magie è il primo che troviamo e tu sei rimasto indietro gli altri erano già morti adesso li hai raggiunti bravissimo di qua c'è solamente una scatola però era importante e qui raggiungiamo il ponte che ho visto poco fa quindi forse quest'area non è proprio così inutile come l'avevo dipinta dice un altro oggetto io sono ancora super contento di avere visto quei granchietti sono la cosa più bella del gioco per il momento non sto scherzando salve vivo lo facevo più debole anche io un'arma lunga te la presento chi è anche più veloce della tua stranamente qui c'è un sacco di gente ancora ma nessuno di problematico da questo lato invece andiamo intorno a questa stanza come questa cosa diventerà una trappola ah no è una lucertola come questa cosa diventerà una trappola allora così vabbè gemma di cristallo questa è una cosa nuova non mi dire che posso rendere le mie armi di cristallo si infliggono danni magici ah ok di sfruttare l'intelligenza quindi lo scaling si può conservare su alcune armi oh mi sembrava un po' strano che anche quelle oscure un messaggio di gioco perché più avanti dormono i guerrieri eh è da capire più avanti da questo lato entrando o più avanti di qua dubito che intendesse questi guerrieri i guerrieri granchio sarebbe bello ma non penso non penso di riconoscere quello che c'è qui davanti sicuramente è una parte inesplorata si direbbe poi magari mi sbaglio salve c'è un altro stregone che però è più amichevole dell'ultimo che abbiamo incontrato ma forse non ce l'aveva con me ce l'aveva proprio col muro che ne so io no qui su c'è un barile esplosivo che poi è strano che questi qui esplodono se li tocchi col fuoco però poi li rompi e dentro non c'è assolutamente nulla come fanno ad esplodere non si sa ci ho sperato neanche anello del sacrificio è il secondo che troviamo di qua noi ci siamo appena saliti qui c'era la lucertola di cristallo quindi ci resta da vedere questa zona alla nostra destra oppure qui ci siamo stati no ma non aveva senso farlo ti fa giusto vedere la lucertola di cristallo attraverso la parete se vuoi essere cauto e vedere subito da fuori che cosa ti aspetta tu sei il primo ah benissimo anche qui reminiscenze dell'anello arrugginito di dark souls 1 nope non so come ho fatto a non vedere questo buco sul pavimento e a proposito mi sono accorto di un altro buco sul pavimento che ho completamente mancato in un'area precedente dovrò recuperarlo c'era una porta chiusa che si apriva dall'altro lato e un buco per entrare in quella stanza però non ci sono stato perché non me ne ero accorto anello del saggio potenzia gli incantesimi abbiamo trovato quello che potenzia miracoli dico bene esattamente ah no riduce i tempi di lancio ok quindi è sempre un anello da stregone utile mentre il vestito ah guarda è persino più leggero di quello che avevo però bianco no il bianco non mi dona mi ingrossa quindi no ah pesa solamente 0.1 in meno posso farne a meno grazie io sono qui ok mi fa male al cuore fare questa cosa smetterò di uccidere questi nemici però prenderò questo però chissà potrebbero droppare cose ah sono così dibattuto e lì c'è un altro di quelli grossi che mi ha visto però io non voglio combattere con lui che se fa da dove si sale ci saranno momenti per combattere con i granchi ma non è questo io volevo solamente andarmi a prendere la roba che avevo lasciato lì dentro visto che sono caduto come un fesso anima morente quindi trappola essenzialmente bel colpo sei ancora vivo sparisci per favore qui su ci siamo andati ora ho perso l'orientamento un pochettino no mi son trovato va tutto bene dovremmo fare il giro lungo ma non è un problema alla fine abbiamo già finito era qui dentro ma non si sa mai un estus usiamola tanto comunque torneremo indietro a breve io sono caduto qui sotto perché non volevo farmi vedere dagli stregoni e qui c'era l'oggettino giusto ok l'ho colpito dice uno stregone tu invece non lo sei ah ma non avevo visto per niente che c'era anche un posto qui a sinistra salve per fortuna i maghi fanno meno danno di quanto immagina si è girato non pensavo che avrebbe continuato poi verso la mia direzione credevo che la carica andasse dritta e basta ah vedi non sono solo scarsissimi fanno anche cose però gli piacciono molto i muri e di questo io tieni bel combattimento GG ho ricevuto un Estus in regalo grazie mille a chiunque l'abbia fatto aspetta no non è possibile quindi non funziona perché sei online c'è qualcosa che ti dà l'Estus io ho appena ucciso un nemico che sia stato lui era un nemico un più più forte che lanciava le lance del fulmine si del fulmine le lance dell'anima interessante questo è un dato davvero interessante noi qui siamo stati ok quindi non ha senso venire di qua per arrivare sopra forse si fa proseguendo di qui facciamo attenzione che una di queste cosine qui potrebbe anche essere un nemico e io devo tornare sulla sinistra ah questo è inaspettato quindi abbiamo magie colonne non partono quelle ricercanti eccole qua non è esattamente quello che mi aspettavo quindi le colonne mi proteggono però io vorrei anche colpirla sta creatura quindi dovremo trovare il modo lui si sposta per ora no ecco qui dove sta sono confuso saggio di cristallo eccolo ah che scemo mi sono attuffato nell'attacco per la fretta di colpirlo mi ha ucciso ok è un boss diverso dal normale è un corvo dai bello mi piace ah mi devo ricordare ogni volta secondo me la paceranno questa cosa perché non ha senso che quando muori non ti viene ridato alla durabilità dell'arma perché mai dovrebbe funzionare così cioè se i nemici le suscitano quando muori perché non ti si dovrebbe ricaricare l'arma comunque sia vediamo da qui mi posso buttare perché no questa da lontano sembrava una lucertola di cristallo e poi c'è anche un oggetto giusto un'anima tanto io sono venuto di qui solamente per evitare un pochino di percorso anche perché qui sotto c'era il primo di quei nemici un po' più grossi e io ripeto che non volevo andare da questo lato ma da sinistra per continuare è da vedere se quel boss è obbligatorio opzionale o che cosa non lo so e poi c'è tutto quanto il centro di quest'area che noi non abbiamo visitato mi intriga questo posto è davvero molto bello fiore verde ne ho più di quanti potrei averne tu come ti sei svegliato questa è una brutta situazione con un granchione e uno di quelli non è il tizio che stava qua è proprio lui invece ha fatto finta di non svegliarsi l'ha presa maledizione come mai era mezzo morto ha avuto un impatto con il granchio immagino di si è l'unica spiegazione e qui ce n'era un altro che mi ricordavo giusto R1 fermo un attimo e sei mio oppure no oppure no va bene diamo un'occhiata anche qui dentro giusto per dire che l'abbiamo fatto porta che ovviamente non si apre c'è una lucertola di cristallo gigante voglio combatterci assolutamente quel nemico è bellissimo bellissimo quello l'info prendi in giro Dark Souls no non mi prende in giro mi prende in giro ma non mi prende in giro o meglio il gioco mi prende in giro i miei occhi no mettiamola così va bene anche loro sono resuscitati a questo punto devo smetterla di stupirmi delle cose è tutto normale va tutto bene e da qui hai modo di arrivargli alle spalle l'armatura del mercenario che per noi a questo punto è un doppione vedremo le sue mosse saranno rimaste le stesse la mia capacità di perry sicuramente no perché so già che su questo gioco non mi trovo come su Dark Souls 1 le lame del mercenario noi le abbiamo già e non le usiamo da un bel po' perché in fondo non sono granché hanno messo sulle scale per non farti fare backstab la mossa si è la stessa almeno quella troppo tardi guarda il danno che mi ha fatto con un perry parziale devo partire prima ancora prima non non mi trovo con il perry di questo gioco me la posso cavare correndo? dico proprio di no ci ho provato è stata una pessima idea perdonate i miei peccati per favore alla fine non vi ho fatto nulla venivo in pace aia no alle sue spalle devi andare almeno l'altro se n'è andato l'ha fatto più lento del previsto vabbè no no tu guarda di nuovo dall'altro lato va tutto bene non c'è nessuno qui perfetto giusto per curiosità no? io sono a 66% di peso con l'anello dell'estus ma possiamo ancora farcela ora il backstab non è un'opzione lo sappiamo già perché si girerà e secondo me sulle scale apposta così anche se arrivi non lo puoi fare eh già ah quell'attacco è rimasto sono tutti tranne quello quello non esisteva uno visto che il il parry non è un'opzione finché non imparo effettivamente a farli proviamo col backstab quella era sempre una strategia prima però non imparerò mai a fare il parry se non mi esercito però ci saranno momenti per farlo eh questo è un attacco stupido da fare dovresti smetterla guarda questo spero ti sia piaciuto e non mi lascia nulla almeno quelli di darsosun avevano un drop garantito no non è vero c'era una possibilità di ricevere cose no la titanita mi sa che era obbligatoria dubbi adesso non penso che respawnerà e mi resta con la cosa che forse se avessi avuto più fortuna avrei potuto ricevere qualcosa carbone di farron è un tizzone e hanno messo un masso davanti alla porta ma mi prendi in giro e la porta non si apre non posso interagirci perché ah allora tizzone infusione pesante affilata e avvelenata aha aha quindi forse tutte le armi si possono potenziare con tutti i sentieri a patto che tu abbia il tizzone per questo il fabbro ne faceva solo alcune all'inizio semplicemente mi mancava il modo di continuare a potenziarle su alti sentieri capisco questa si apre dall'altro lato che però non è un posto che noi possiamo raggiungere da qui perché è oltre questo muro qua e a questo punto cerchiamo di chiudere il cerchio guarda quanto è alta l'acqua qui è una pessima idea combattere in quest'area tomo di piromanzia anche quello è scritto in braille non l'ho visto ok siamo arrivati al fondo è buono che ci siano gli alberi più difficile per loro passare tu chi sei voi chi siete è una spada curva quella ok cominciamo a combattere wow 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 calmiamoci guarda come si baffano ha un equilibrio enorme perché questo martello dovrebbe fermarlo insomma dai e l'altro invece ha la tipica mazza grande ah mi dicevano che più avanti riposano i guerrieri che siano loro uno alla volta secondo me non sono difficilissimi smettila di fare la weapon art quanta stamina hai o più che altro mana aia pessimo momento per fare quella cosa tiè guarda mazza grande e scudo piccolo che combinazione non se ne parla chi ti credi di essere mi stai gankando e vuoi pure curarti vergognati non hai capito devi piantarla non puoi restare così impunito no colpisci ok e uno è andato e adesso l'amico con quella specie di murakumo aspetta un secondo fammi prendere questo mazza grande e adesso giochiamo non voglio provare a fargli perdi solamente perché su dark souls 2 un'arma del genere non avrei potuto bloccarla cioè deviarla non avendo idea se qui ci sono armi che non si possono fare perdi non ha senso tentare adesso preso e ripreso no ok adesso ho la conferma devo fare attenzione l'arma ho provato a fare la stessa cosa si estende beccato lui mi droppa la sua arma spadone dell'esule ok questa mi interessa molto di più della mazza grande un martello pesante richiede 28 in forza penso sia esattamente la stessa cosa come mosse vediamo no non è esattamente come quello che stiamo usando abbastanza simile in realtà no vedi ah ah questo è meglio perché ha una spazzata ottimo quindi hanno sostituito il randello ah vabbè allora qui questo mi piace non è per nulla una cattiva arma e poi c'era lo spadone dell'esule 24 in forza 16 in destrezza ed è uno spadone di curve vediamo dai che è veloce per essere un'arma di questa classe o meglio è più veloce della muracumo di dark souls 1 un po' meno di quella di dark souls 2 r2 non è verticale è orizzontale ancora più largo bello e anche molto veloce e poi cos'altro c'è questo quanto è pesante sta cosa 17 unità quindi non tantissimo non più di quello che avevo prima o meglio si un po' di più ma non tanto anche questi sono attacchi laterali questi sono un po' più lenti e questo è sicuramente dall'alto perché l'abbiamo visto fare al nemico e il secondo ripete però dall'altro lato mi piace quest'arma eh dannazione quante cose voglio potenziare ah se una di queste due si potenzia con la ticintillante ci posso anche fare un pensiero dove sta l'arma che stavo usando ho persa allora per ora lasciamo perdere lì dentro grande anima di viandante quindi sappiamo che c'è un boss in quest'area non so non so se è obbligatorio o meno potrebbe tranquillamente non esserlo visto che non mi sembra di avere visto un'uscita a quel posto però comunque per me è obbligatorio perché tutti i boss sono obbligatori non esiste altra via e poi chissà cosa potrei ricevere da lui quasi sicuramente cose da stregone allora volendo raggiungerlo vabbè mi conviene andare verso sinistra tutto qui però io adesso sono curioso di questo posto perché per esempio potrebbe essere un modo di raggiungere quella lucertola di cristallo e con quella voglio combattere sicuramente forse passando da qui sotto si arriva dall'altro lato perché era di là vedremo osso del ritorno fanno sempre piacere e da qui c'è la porta col masso perfetto almeno mi sono trovato quindi sì effettivamente scendendo qui sotto e proseguendo verso dopo un lungo corridoio immagino si arriverà alle spalle di quella lucertola di cristallo e invece no perché stiamo andando dall'altro lato ah c'è un falò ah allora se qui c'è un falò io decido di continuare però voglio provare forte di farron tipo forte di farros ma non porte di farros ah beh mi ero appena complimentato per il fatto che poco qui sopra c'era una bella foresta limpida e tenerosa che non avvelenava e poi mi schiaffano qui dentro una palude enorme che ti avvelena bene era esattamente quello che volevo il veleno comunque non è molto veloce anche in questo caso mi sembra una via di mezzo fra quello di dark souls 1 che non vedevi neanche la vita muoversi e quello di dark souls 2 in cui battevi le ciglia ed eri morto e mi secca che la mia previsione di arrivare alle spalle della lucertola sia appena andata in frantumi perché volevo davvero arrivare di là loro ovviamente non sono respawnati appena li ho visti ho capito che doveva essere così e poi mi hanno droppato le armi quindi era logico armatura del cavaliere caduto diamo un'occhiata avevo visto qualcosa che non esisteva cavaliere caduto 9.2 unità non è male per essere un'armatura un po' più pesante devo dire esteticamente non è malvagia però io tornerò ai miei abiti di lavoro perché ci tengo al mio lavoro tutto qui quell'oggetto lo si può prendere solamente dall'alto e questo alto come lo raggiungo? che sia tipo dopo la boss fight? può essere non lo escludo comunque questo valore mi fa un gran favore perché sono molto vicino al boss non devo fare altro che andare non di qua dai zitto guarda ti uccido solamente perché mi hai tolto vita bah mi serviva quest'estus l'ho gestita proprio male potevo tranquillamente rotolare correre gli incontri invece no sono rimasto lì a prendere tutte le botte qui dentro abbiamo visto che c'è questo altro sentiero che mi consente di skippare ok adesso c'è solamente un mago quindi evidentemente sì ah eccolo era qui l'altro chissà perché è entrato lì dentro prima vorrei ucciderlo giusto per sapere se mi ridà l'estus però non lo farò allora il saggio di cristallo bello quell'incantesimo il soffio del drago bianco ovviamente in questo caso però è tutto quanto violaceo quindi la chiave del successo è non andargli incontro dritto ma andare un po' storto e fare attenzione perché questi incantesimi poi ritornano lui spunta sempre nello stesso punto no cambia e ha un modo di attaccarmi in melee che sarebbe il catalizzatore esplode no scompare penso che possa comparire sempre e solo agli angoli della mappa o qualcosa del genere forse dall'altra parte eccolo non camminare dritto per ora non ho modo di capire che incantesimi sta facendo quando li fa posso distruggere quel coso mentre mi sta arrivando incontro fantastico era quello che volevo sapere quindi non devo per forza beccarlo posso distruggerlo prima eccolo lo fa di nuovo eccolo e l'ho distrutto ho usato l'attacco circolare volontariamente proprio per colpire sia il boss che l'incantesimo adesso la musica è cambiata perché aspetta sarà sicuramente quello con l'incantesimo viola ancora ecco qua il falso idolo ci insegna cose cose che però non mi servono a nulla perché loro sono ovunque nell'arena ok la seconda metà è molto più impegnativa beh stavolta la corsetta l'ho fatta un po' meglio almeno non mi sono fatto fregare da quel nemico che stava là all'inizio tu casti e io prendo tutto addosso ho detto un po' meglio non perfetta comunque questo boss penso sia carne morta a questo punto o almeno lo spero ah non corriamo dritti sarebbe da scoprire anche se quel soffio del drago bianco ah questo non lo sopporto però quello homing ecco perché perché non partono tutti assieme ce n'è sempre uno che resta dietro e mi colpisce quando ho schivato gli altri questa volta l'ho fatto perfetto e ho persino utilizzato una brace perché perché sì comunque noto con piacere che non l'hanno messo al centro della stanza così la più vicino no signore l'hanno messo al punto più lontano possibile così ti devi per forza fare una bella corsa prima di arrivare da lui che nel frattempo sei già abbaffato adesso che ho più vita però sono affari tuoi è una cosa che serve qui perché nella fase avanzata mi ritroverò per forza a prendere colpi che non voglio quindi tanto vale approfittare del fatto che il boss l'ho capito ora si tratta soprattutto di avere fortuna con i punti in cui spawna con gli attacchi che fa esattamente evitando questo il più possibile pattono quando sono vicino ma non visibile non lo so per favore colpisci il cristallo proverei anche con l'alabarda che mi fa consumare meno stamina però con questo è più difficile colpire il cristallo volante lui quanto danno prende anche di più e si standlocka bene con l'alabarda mi conviene finché non devo fare quell'operazione lì allora posso distruggerli è lui ok le copie svaniscono quando svanisce lui questi cristalli sicuramente ti danneggiano quando ti prendono però di buono c'è il fatto non è quello giusto che ti fanno vedere un secondo prima dove spunteranno ah guarda dove si è messo qui dovrei essere relativamente al sicuro eh mannaggia relativamente come dicevo maledizione e guarda qua questa è la cosa che non mi piace sono ovunque questi nemici ovunque esattamente questo è il motivo per cui ho detto che nei souls non c'è posto per gli attacchi casuali e per le cose casuali in genere a me piace sapere in anticipo che cosa deve succedere se tutti quanti i nemici spawnano in punti casuali fanno attacchi casuali io non so come controllare la situazione perché potrebbe succedere di tutto e da un combattimento che hai fatto bene poi all'improvviso ottieni una rotazione cattiva spawnano tutti quanti in punti diversi ti fanno attacchi a random ti trovi completamente circondato e muori almeno col falso idolo che ho nominato la cosa aveva senso perché nessun idolo poteva spawnare ai lati dell'arena e quindi lì eri sempre completamente al sicuro questi qui da quello che mi è sembrato di capire spawnano dove vogliono quindi non hai neanche appunto l'attenuante di trovare un posto sicuro e aspettare lì il momento perfetto per danneggiare il boss per ora da quello che ho visto mi sembra proprio che non funziona così in questo caso questa è l'ultima volta che ci provo perché sarà anche la volta in cui ci riesco ovviamente nessun altro motivo c'era un segno di evocazione il tizio Garvinland praticamente non mi ricorderò mai i nomi che gli hanno dato in questo gioco quello è Garvinland non c'è da cambiarlo insomma è lui punto smettila con questi cristalli ecco non sono riuscito stavolta a girarmi per colpirlo allora dove spunti fammi sapere eccolo là sempre nel punto più lontano possibile dal sottoscritto ok e due non ho fatto in tempo quante volte può attaccare di file per ora l'aveva fatto solo due volte io mi curo qualsiasi cosa succede perché abbiamo visto quanta vita si perde velocemente se ti prendono tanti incantesimi di file ah questo qui la pioggia giusto però non è partita per quale motivo dove sei fatti vedere eccoti non so se è un pattern però tende a spuntare lontano dall'ultimo luogo in cui è stato quindi magari stavolta è da questo lato però potrebbe non essere quello vero aiuto no era lui non so se solo lui può attaccare fisicamente però allora facciamo un giro dall'altro lato e vediamo era lui penso di avere visto un no però è qui guarda ce ne sono tre vicino qui può andare tutto storto velocissimamente e curati di nuovo sul lato sinistro vediamo che succede di ce n'è uno qui un altro eccolo là esattamente dal lato opposto rispetto all'ultima volta muorici forse è un pattern il fatto che sia sempre lontano apprezzo l'idea di questo combattimento però è non mi piace tanto la casualità tutto qui a stavolta mi è andata bene che sapevo dove muovermi o almeno l'ho immaginato e ci ho preso ogni volta però 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 è da vedere io vi saluto qui la prossima volta torniamo ricominciamo dal santuario così possiamo potenziare l'arma fare cose che dobbiamo fare per oggi è tutto ciao a tutti ragazzi